Se n'è andato a 61 anni Massimiliano Milani, un simbolo della protezione civile della provincia di Pavia e figura di riferimento anche per il mondo del volontariato. Era malato da tempo anche se la malattia non aveva mai fermato né rallentato la sua voglia di fare e di mettersi a disposizione degli altri. In molti lo ricordano come una persona gentile ed altruista, sempre presente dove c'era bisogno, dalle alluvioni alle prime emergenze legate all'arrivo dei migranti. Sui social network sono tantissimi i messaggi di cordoglio. La sua perdita lascia un grande vuoto nel cuore della nostra comunità e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, si legge in un post del Comitato Coordinamento Volontariato. Max ha dedicato gran parte della sua vita a servizio degli altri, lavorando instancabilmente nel settore provinciale della protezione civile. La comunità della protezione civile lo ricorderà per il suo spirito altruista, la sua determinazione e la sua costante disponibilità. La sua presenza ha fatto la differenza in molte vite e la sua eredità continuerà a vivere attraverso il lavoro che ha svolto e l'ispirazione che ha offerto a tanti giovani volontari, con gratitudine affetto, conclude il post. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Max Milani in questo momento di dolore, ricordando il valore di una vita dedicata al servizio degli altri.